buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi giovedì 16 marzo 2017 buongiorno a tutti voi che siete come sempre in tantissimi ogni giorno a seguirci sia in diretta alle 7.30 che durante le repliche nel corso della giornata allora andiamo subito a vedere il santo di oggi poi il tempo allora il santo di oggi è san giovanni di risparmio il cognome 16 a 7 e l'alba 18 e 16 il tramonto andiamo a vedere il tempo oggi invece è una giornata che continua ad essere soleggiata su tutta la regione continua dunque questa fase di bel tempo questa fase primaverile anche se di notte le temperature ancora scendono vicino allo zero ma di giorno di giorno si può davvero vivere una giornata e delle giornate primaverili con temperature 16 17 gradi 18 gradi anche ieri allora vediamo il tempo per oggi giovedì abbiamo cielo sereno poco nuvoloso con temperature lieve aumento per la giornata di domani venerdì 17 marzo ancora cielo sereno con temperature in aumento sabato weekend qualche nuvola in più però tutto sommato avremo ancora il sole con temperatura in ulteriore aumento l'alta pressione garantirà condizioni stabili e soleggiate fino alla metà della prossima settimana ed adesso i giornali giornali che troverete come sempre nelle vostre edicole di fiducia cominciamo dalla pagina di fano dove c'è purtroppo una notizia di cronaca che riguarda un malore che ha colpito un uomo un uomo di 50 anni giuseppe carugati lo vedete in questa fotografia tratta da facebook e pubblicata anche sulla pagina principale del corriere un malore fatale per questo uomo che era al volante della sua fiat multipla che a un certo punto ha cominciato a sbandare vistosamente sfinita contro un albero si schianta solo al volante muore giuseppe carugati di san giorgio lascia la compagna è una figlia di otto anni l'incidente è successo in via papiri a fano la multipla sbandato prima di finire fuori strada sotto sempre sulla pagina del corriere non intitolate la strada ad alexander dubcek l'udc e progetto fano segnalano l'ingerenza di samuele mascherin l'assessore dice invece erano d'accordo e dunque tornerà in una delle prossime sedute del consiglio comunale tramite un'interrogazione dell'udc e della lista civica progetto fano questo argomento l'intitolazione della nuova strada di accesso alla scuola elementare di cucurano carara ad alexander dubcek oggetto di contestazione da alcuni da parte di alcuni cucuranesi che avrebbero preferito l'intitolazione ad un personaggio fanese l'indagine passa con il sì di tutti e ora trasparenza sull'aeroporto eletto presidente mirisola di forza italia protesta il movimento 5 stelle che parla di colpo di mano decisiva l'astensione di pierpaoli della lista di danna il sindaco non crede nell'iniziativa e poi via libera definitivo alla variante del per il parco pubblicato il bando nazionale del concorso di idee poi la progettazione esecutiva cari fanno addio vigileremo sugli impegni presi da creval approvato l'ordine del giorno del pd a tutela di dipendenti ed aziende aziende locali finora le garanzie sono state rispettate nuove assunzioni dal territorio e come vi abbiamo raccontato anche qualche sera fa nel nostro telegiornale la buona notizia per chi ha i figli a scuola che mangiano anche a scuola nella mensa scolastica pensate che quella che gestisce fanno è quinta in italia il gradimento è stato rilevato dal sito food insider con vari parametri dalla valle del cesano le mini guide si formano studiando per il borgo parte la formazione all'istituto fermi archeoclub dice il senso civico è legalità i ragazzi si preparano a spiegare le ricchezze conservate nel castello e a sant'agostino poi l'altra pagina del corriere quella di senigallia la banda dei casolari colpisce ancora la cronaca atti vandalici anche sull'auto in sosta mobili distrutti scritte o scene sui muri a montignano la baby gang mette a soccuadro una abitazione mentre la pagina di pesero è la vediamo subito la pagina di pesero del eccolo qua del corriere adriatico la cronaca lo trovano morto in camera era deceduto da sette giorni un un anziano di 74 anni si chiamava giovanni brunetti viveva da solo il sindaco dice aveva rifiutato l'assistenza siamo a monte felcino era morto da diverso tempo probabilmente già da una settimana questo 74 anni che viveva in una casa nel borgo delle ville a monte felcino lo hanno trovato morto ieri mattina in camera ai piedi del letto i carabinieri di isola del piano è un agente del municipale poi un capriolo un capriolo sulla monte labattese travolge uno scooter l'uomo è stato portato in ospedale l'animale è stato soccorso dall'asur stava procedendo con il suo motorino quando è stato travolto da un capriolo spuntato all'improvviso sulla carreggiata l'incidente è accaduto ieri mattina intorno alle 9.30 lungo la strada monte labattese subito dopo il distributore di metano andando in direzione urbino la prima pagina invece del Corriere Adriatico eccola qua con il titolo sul delitto Lulli un'esecuzione ergastolo per le belve la requisitoria Igli e Mario hanno la stessa responsabilità nell'omicidio il pubblico ministero ha richiesto il massimo della pena per Igli Meta e Mario Mema ventenni albanesi imputati per concorso in omicidio di Ismaele Lulli il 17enne di Sant'Angelo in Vado che fu ucciso il 19 luglio 2015 a San Martino di Selva Nera il motivo? La gelosia per il tradimento della ragazza di Igli con Ismaele la fotografia invece sulla prima pagina del Corriere per le baby pattinatrici di Ussita dal mare sognano il ghiaccio sfollate in riviera non si allenano da ottobre dallo show con la Costner all'esilio questo è il titolo e la pagina principale del Corriere Adriatico adesso andiamo invece a vedere il resto del Carlino partiamo dalla pagina di Fano spuntano una villa romana e una necropoli e al cantiere arrivano gli archeologi la scoperta durante i lavori per le opere compensative della 14 questa è la prima pagina poi usano i parcheggi come un bancomat protesta a Polegioni di Fratelli d'Italia e anche un residente del centro storico di Fano che dice questo è l'ennesimo balzello commenta così infatti Sorcinelli questo abitante, questo residente in centro storico dice chi abita in centro storico ha il sacrosanto diritto non solo di tornare a casa la sera ma anche di potersi prendere un giorno di ferie o di malattie senza dover pagare l'ennesimo balzello o senza doversi preoccupare di spostare la macchina per far sì che una società privata ricavi lucro dal parcheggio che si è occupato la sera precedente a Sant'Orso invece la pista correrà solo su un lato Fanesi, l'assessore replica ai commercianti verranno sacrificati tra virgolette soltanto una decina di posteggi al massimo il problema è che a Sant'Orso così come un po' in tutti gli altri luoghi vicini ai centri commerciali mancano i parcheggi in questo caso ne verranno sacrificati soltanto dieci sull'aeroporto Mirisola di Fratelli d'Italia guiderà la commissione io super partes dice lui ma l'opposizione si spacca i grillini colpo di mano politico dei partiti dell'ex giunta di Aguzzi e poi ancora dal resto del Carlino il piromane lo ricorderete quello dei ristoranti che diede fuoco nel novembre scorso il Tiravino e la Bella Napoli ebbene è evaso il piromane dei ristoranti il lettone di 29 anni già arrestato dalla polizia con l'accusa di aver incendiato questi due ristoranti era ai domiciliari in una struttura di Sasso Corvaro e secondo insomma non è più rientrato adesso non c'è più ma allora al volante auto si schianta in via Papiria muore un 51enne altro sinistro in via della Fornace un ferito e a San Lazzaro abbattuto un palo e ancora da Urbino guardate questa fotografia è stata tratta da Instagram il social network delle foto avete se riuscite a vedere ecco qua una suora che discute con un ragazzo questo ragazzo è uno studente e l'oggetto del contendere qual è? la musica alta a Urbino studenti festeggiano giorno e notte quasi tutti i giorni musica alta le suore non dormono la religiosa questa religiosa rimprovera gli studenti il filmato finisce su Instagram e poi però scompare fanno le feste senza curarsi di tenere sveglie le persone che invece vogliono dormire e qui c'è tutto il racconto su come è andata addirittura anche i dialoghi perché per un tratto per un po' il video era su Instagram poi qualcuno l'ha tolto forse non era poi così bello qualcuno ridacchiava mentre mentre riprendeva il compagno che sotto aveva questa discussione con la sua ora insomma alla fine ragazzate ma neanche troppo Equitalia chiede i soldi ma perché è la notizia sulla pagina di Fossombrone Cagliurbania del resto del carlino il racconto di un cittadino cagliese che dice nessuno sa darmi risposta è una situazione kafkiana quella che è successa a Camillo Baldeschi di Caglia ha ricevuto alcuni giorni fa una lettera da parte di Equitalia dove si chiede il pagamento di 44 euro e 26 centesimi nessuna motivazione e nessun oggetto solo un numero identificativo di pratica e lui dice ho capito mi chiedete i soldi ma mi spiegate anche il perché e sotto invece guardate qua ho gettato via un cane come fosse spazzatura scoperta scoperto da un medico e vi allargo la fotografia così che possiate più o meno rendervi conto ecco qua il cane all'interno del sacchetto dell'immondizia l'ultima notizia la prendiamo da Pesero primo piano il portoghese cioè quello che viaggia gratis sui mezzi pubblici minaccia i controllori vengo a trovarvi e vi taglio la gola arrestato un 42enne sulla linea 46 spinte e offese davanti ai passeggeri se li chiamate sparo anche a loro dice lui tanto l'ho già fatto insomma sbruffone sicuramente questo 42enne che adesso ha l'obbligo di firma a Riccione e divieto di tornare nella città di Urbino la rassegna stampa finisce qui grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata vi ricordo il 338 49 68 250 per le vostre segnalazioni e permettetemi davvero di ringraziare i tanti che ogni giorno si mettono in contatto con la nostra redazione attraverso questo numero ci segnalano ci inviano le fotografie anche quelle di ieri per esempio dell'incidente non solo ecco quindi davvero grazie poi laddove è possibile ricarichiamo anche i telefonini ci diamo una mano alla vicenda e quindi 5 euro di ricarica non si nega a nessuno grazie per averci seguito stasera c'è il telegiornale 20 e 30 occhio alla notizia buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.